Buonasera, e allora dopo le commedie, gli intrighi di Nozio di Figaro e Turcon Italia, dopo il melodramma della pazzia a sfondo storico dei puritani, la stagione del Teatro Regio si alleggerisce con una fiaba celeberrima, Hansel e Gretel. Fiaba celeberrima che a fine ottocento è stata messa in musica da Engelbert Humperdinck, uno di quei casi di compositori famosi per una sola opera, benché ne abbia composte altre, senza dubbio questa è quella che è rimasta in repertorio continuamente, soprattutto in area tedesca e anglosassone. ma anche con una discreta fortuna in Italia. A Torino è stata fatta nel 1996 per il pubblico dei ragazzi delle scuole in versione italiana, per la prima volta la eseguiamo in lingua originale, fatto non secondario per un'opera che è scritta in tedesco, che ha una prosodia ben diversa e che soprattutto è intrisa di cultura e tradizione musicale tedesca. Non dico di più perché sennò brucio... Anzi, così imparo... No, non ci mancheremo. E per cui questa è un'importante novità, un'esecuzione musicale peraltro di ottimo livello, grazie alla presenza sul podio di un direttore come Pinka Steinberg, che ama quest'opera e che ha tenuto molto a dirigerla qui al Teatro Regio, dove, sapete, è stato più volte con molto successo. L'allestimento è un allestimento d'autore, il coloratissimo allestimento firmato da Emanuele Luzzati per le scene e costumi altrettanto splendidi di Santuzza Cadì. Vittorio Borrelli riprende la regia, ricostruisce la regia di questo spettacolo che vede in scena Annalisa Stroppa come Hansel, Regula Müllemann come Gretel, Tommy Acala come Peter, il padre dei ragazzi, Atala Shek nel ruolo della madre, il ruolo della strega è interpretato da Natasha Petrinsky e Bernadette Müller, il ruolo dei due nani maghi che intervengono a un certo punto nella storia. Esce dalle colonne del Sole 24 Ore Carla Moreni, per tornare, e la ringrazio ai nostri microfoni, perché Carla Moreni? In particolare, oltre al fatto che credo potrebbe parlarci di qualunque opera, perché Carla Moreni ha realizzato una traduzione di questo libretto per il Teatro Giuriparma ormai nel 98 e che quindi credo la tenga in particolare considerazione anche in virtù di questo fatto. Credo che si possa dire anche che le fiabe sono per i bambini, ma si parlano sempre anche agli adulti, o meglio ai bambini, da più tempo, e per cui credo che abbia molto senso proporla al pubblico abituale della stagione d'opera e spero che lo possiate condividere. Secondo te, Carla Moreni, è vero? Beh sì, assolutamente sì. Intanto grazie, grazie Simone. Grazie delle belle parole, grazie dell'ottima presentazione. Mi fa molto piacere naturalmente essere qui con voi. Siete sempre numerosi, calorosi. Questa volta non vi interrogo, non parto subito con le domande. Eravate pronti? Le teniamo alla fine. Ormai è un appuntamento a te. Sì, 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 poi c'è qui anche il vostro direttore artistico che mi ha detto dietro le quinte che è lui un grande appassionato di Humperdinck, Engelbert Humperdinck, ai noi per lo più sconosciuto, perché noi parliamo di Hansel e Gretel, ma già pronunciare Engelbert Humperdinck, sembra quasi uno scioglilingua, peggio della strega. Sì, mi è molto caro Hansel e Gretel, appunto, è un testo sul quale anni fa mi ero cipentata nella traduzione, pur io adorando il tedesco e adorando le opere date in lingua originale. Devo dire così che, al di là di quell'esperimento che fu senz'altro molto interessante con la collaborazione di Lorenzo Arruga, oggi con la tecnologia delle proiezioni e dei videolibretti, credo che gustarsi le opere con la sonorità del canto originale rappresenti un'opportunità assolutamente da non perdere, in particolare per certi titoli, cioè Mercè e Cignogentil non lo possiamo più sentire, Humperdinck che diceva, cosa diceva, deti desta fantolina, quando uno dei due maghi sveglia i bambini, insomma, fantolino, nemmeno i bambini lo possiamo dire, nel senso che i bambini non capiscono. Mi ero molto divertita a tradurre mi ero soprattutto molto divertita a verificare come la traduzione italiana corrente di Hansel e Gretel fosse stata purgata e resa assolutamente morigerata, perché il testo di Hansel e Gretel, scritto, come voi sapete, dalla sorella di Humperdinck, Adelaide Vette, è un testo molto divertente, è anche molto aguzzo, molto puntuto, molto efficace, sia sui bambini sia sui bambini cresciuti. Per cui, ad esempio, La strega, che ovviamente nella favola è il personaggio centrale, io volevo cantare La strega, mi hanno detto di no, che ce n'è una più brava di me, quindi pazienza. Comunque, La strega, nell'originale di Humperdinck, si chiama di Knusperhex, cioè la strega rosicchiona, Knusperna vuol dire rosicchiare, è la strega che rosicchia le ossa dei bambini, quindi non è proprio una strega innocente, e il suo nome è Rosina Leckermau, cioè Rosina la sperleccona, quindi lei dopo aver rosicchiato la nostra rosina di melodrammatica memoria, si sperlecca, Leckermau, quindi fa un bel effetto, oltre che un effetto sonoro, chiamare la Knusperhex, fa anche un effetto sapere che lei si chiama Rosina Leckermau. Bene, come si chiamava nella traduzione del buon Machi, che ha citricolato in italiano, tra l'altro benedetta dalla direzione di Arturo Toscanini, bene, si chiamava Amanda Marzapane. Allora, voi capite l'abisso, Amanda, una strega, ma non lo possiamo accettare assolutamente. È stato molto divertente verificare queste incongruenze. Ad esempio l'altro caso emblematico di questa traduzione, andava a toccare l'altro elemento magico che è fondamentale nelle fiabe, e soprattutto fondamentale nelle fiabe di ambito tedesco, nelle cosiddette Zauber Opera, nelle opere magiche. Era interessante vedere come si traduceva il nome del mago, appunto, di colui che fa addormentare e poi risveglia i bambini che si sono persi nel bosco. Nell'originale tedesco si chiama Sandman, cioè l'uomo della sabbia. La figura di Sandman, che sembra un po' Batman, o Sandokan, a seconda di come uno lo voglia vedere, comunque è un nome importante, è un nome roico, Sandman, nella letturatura tedesca dell'Ottocento e dei primi del Novecento era una figura assolutamente inquietante per i bambini, perché era il personaggio invocato da tutte le mamme, ogni tanto anch'io l'avrei invocato volentieri, quando i bambini la sera non vogliono dormire. E quindi questo, le mamme, quando il bambino non vuole dormire, dice, vai a letto, che altrimenti arriva Sandman. e Sandman vuol dire l'uomo che manda la sabbia sugli occhi dei bambini che non vogliono chiuderli, quindi è una figura terrificante, poveri bambini tedeschi, minacciati se non vogliono dormire da questa sabbia che va loro negli occhi. Bene, nella traduzione italiana si chiamava il nano sabbiolino, non fa più paura, chiaramente, come Amanda, quindi tutto veniva molto edulcorato, quindi al di là del, al di là degli scherzi, al di là del passaggio da una lingua fonica come la lingua tedesca alla lingua melodica italiana, c'era proprio nelle traduzioni anche un passaggio di contenuti, una sorta di smussamento di quell'elemento aspro a guzzo che era tipico della fiaba romantica tedesca che doveva far paura, tra l'altro Sandman appunto è il protagonista di uno dei racconti di Hoffman messi poi in musica nei Cont of Manna, quindi era, diciamo, un testo molto noto e molto diabolico, anche di molto inquietante. Ebbene, quindi da qui, da questa traduzione, è nato il mio interesse verso quest'opera. Dopodiché, l'altro elemento che mi è sempre piaciuto, parlando di Hansel e Gretel di Umperdinck, al di là dell'esattezza del linguaggio, a me piace molto occuparmi di linguaggi, scrivendo, comunicando, e di esattezza delle parole, cioè le parole devono essere esatte, devono comunicare, comunque rivestire un determinato significato. L'altro aspetto che mi piaceva è che questa opera, anzi, Merchen Opera, cioè un'opera fiaba, pensata per i bambini e quindi nata con destinatari dei piccoli ascoltatori, fosse in realtà una grande opera. Quindi non è un'operina, non è un giocattolo, è un'opera importante a tutti gli effetti. E la riprova, anzi, le prove che fosse un'opera grande già dalla nascita sono due. La prima è che la prima esecuzione di quest'opera avvenne nel teatro di corte di Weimar. Basta nominare Weimar e noi pensiamo a Goethe, pensiamo a Liszt, pensiamo a uno dei grandi templi della cultura germanica, più nobile. L'altra prova è il fatto che quest'opera ha sempre molto interessato i direttori d'orchestra, i grandi direttori d'orchestra. Quindi più che un'opera per cantanti, Hensel e Gretel, Hensel und Gretel, visto che la scuoterete in tedesco, adesso vi parlerò anzi man mano in tedesco. Le ultime domande saranno in tedesco. E se voi vedete l'elenco dei grandi direttori che l'hanno guidata, a partire, il primo fu appunto Richard Strauss, ma contemporaneamente furono Hermann Levy, Mottel, Mahler, i grandi direttori maleriani, i grandi direttori wagneriani, in Italia il primo toscanini. Quindi abbiamo un elenco incredibile, ma poi via via anche altri direttori importanti, perché Guarnieri ne ha una meravigliosa edizione e in tempi più recenti Carajan e Solti. Quindi non è un'opera, non è un'operina, non è un'opera mignon. Allora l'idea di passare ai bambini un messaggio musicale alto, ecco, questo trovo sia il significato più profondo, il messaggio che in fondo ci lascia con la sua Hansel und Gretel Engelbert Humperdinck. Cioè, se vogliamo educare i bambini alla musica, partiamo dalla cavalcata delle Valkyrie, non partiamo dalle piccole cose, dalle trascrizioni, dalle riduzioni, e no, il gusto dei bambini deve essere formato subito sulle cose importanti. Insomma, un po' come fanno ad Amsterdam che portano i bambini dell'asilo a vedere il museo Van Gogh, non li portano a vedere un'esposizione di cartoni animati. E quindi questi sono i due aspetti che io credo restino importanti oggi ed è sempre interessante vedere che i direttori che devono affrontare Hansel e Gretel sono sempre dei direttori grandi, anche qui a Torino c'è un nome importante, perché la partitura pur con delle forme minute ha comunque una grandezza di tratto, di scrittura, esige grandi interpreti, non può essere buttata via Hansel e Gretel. E per questo gli direi facciamo subito un ascolto in modo che il tutto sia chiaro, preludio, la traccia numero uno, vi ho portato un'edizione con la traduzione in italiano, un po' provocatoriamente perché volevo rimandare alla dettidesta Fantolina e all'Amanda Marzapane, però è un'edizione storica, importantissima perché venne firmata da Carajan che negli anni 60 appunto dirigeva l'orchestra italiana e qui e qui è alla Rai di Milano. Possiamo lasciar sfumare questo acqueo viaggio wagneriano e sembra proprio scritta sul cartone di Tristano proprio l'impronta wagneriana è notevolissima ma questo significa chiedere a chi la esegue all'orchestra al direttore una grande concentrazione cioè siamo di fronte a una partitura grande una partitura importante interessante tra parentesi di questa edizione appunto di Carajan come magicamente faccia emergere la bellissima frase degli archi da questa entrata corale dei corni certo strumenti non sono intonatissimi ma questo a me fa sempre piacere perché si sente sempre dire ah ma un tempo le esecuzioni erano perfette invece noi quando poi andiamo a sentire anche le esecuzioni del pignolissimo Caran insomma qualche falla l'avevano però quanta musica quanta espressività allora chi era Humperdinck vediamo un attimo di stanare prima di raccontare ad entrarci nei meandri semplici della fiaba vediamo chi era questo compositore da dove nasce perché questa impronta di devozione così smaccata a Richard Wagner Engelberg Humperdinck nasce da una famiglia assolutamente borghese tedesca nasce a Sigburg un piccolo villaggio vicino a Köln vicino a Tracolonia e Bonn se vi capitasse di passare da quelle parti assolutamente andate a visitare la sua casa natale assomiglia molto alla casa dove Mendelssohn si era trasferito all'Ipsia con la moglie e tutta la numerosa famiglia è la classica casa borghese tedesca una bella casa di impianto severo con questa sorta di ci trasmette questa sorta di impressione che la casa sia il luogo sicuro il luogo sicuro per la famiglia il luogo sicuro per l'intimità familiare è proprio la Heim è il luogo dove gli affetti si rinsaldano è molto importante per la cultura tedesca in particolare per la cultura romantica questa idea della casa come luogo privilegiato anche dove ci si forma dove si rinsalda la cultura dove si si intrecciano proprio i legami più profondi non a caso il primo atto di Hansel e Gretel porta come intestazione come appunto luogo di esecuzione da Heim siamo a casa l'essere a casa certo la casa dei poveri bambini Hansel e Gretel era più vicino alle favelas che alla casa dei Humperdinck era una casa dove i bambini stavano a casa a lavorare lui faceva le scopere e rammendava i calzini e non andavano assolutamente a scuola mentre mamma e papà erano fuori così in giro per umili lavori mentre invece la famiglia da cui veniva Humperdinck era assolutamente una famiglia di tratto borghese colto il padre era insegnante di ginnasio la mamma come volevano tutte le brave moglie tedesche aveva una bella voce cantava e suonava il pianoforte e naturalmente insegnava la musica ai bambini tra l'altro il nonno era un abbastanza rinomato direttore di coro quindi diciamo la musica era in casa e c'era proprio questo bell'aspetto Biedermeyer quando oggi è stata tutta rivalutata la cultura Biedermeyer qui siamo in un tardo Biedermeyer che non è stata solo una cultura che ha prodotto le belle sedie tonè ma è stata proprio la cultura Biedermeyer una cultura che ha fondato il piacere della cultura domestica dell'intimo domestico raffinato e colto ecco in questo ambiente così raffinato il primogenito dei quattro figli dei quattro fratelli Humperdinck dimostra subito delle spiccatissime dote musicali pensate che a 14 anni i bambini prodigio ad avere una scuola in area tedesca crescevano come funghi a 14 anni aveva già scritto tre opere o meglio un'opera e due zingspil veramente mostruoso a 14 anni quindi tutti speravano per lui il più fulgido avvenire in realtà come spesso accade con i bambini di grande talento ma di fantasia piuttosto distratta il ragazzino si iscrive dopo gli studi liceali si iscrive alla facoltà di architettura dopodiché l'abbandona e si reccherà a Monaco prima al conservatorio di Colonia poi al conservatorio di Monaco per studiare musica e qui studia un po' di tutto cioè dal clarinetto ai vari strumenti naturalmente alla composizione per mantenersi il suono a cabaret nei locali di Monaco e il tratto interessante di cui racconteranno poi i suoi maestri è che aveva una grandissima capacità di improvvisare dal punto di vista armonico cioè aveva una grande capacità di modulare cioè aveva un senso armonico spiccatissimo e questo teniamolo presente perché sarà ovviamente il tratto che lo avvicinerà a Wagner e che tanto di lui Wagner ammirerà ma qui i due non si sono ancora conosciuti anzi i maestri di Humperdinck sono tutti degli ardenti anti-wagneriani e quindi insegnano al ragazzo per carità di non lasciarsi traviare da questa così foresta armonica che sta mettendo in campo il grande compositore di successo ma invece di restare ancorati e ben fedeli alla sana tradizione teutonica l'allievo naturalmente non da retta ai maestri e anzi si iscrive a un circolo wagneriano nascevano già i primi sodalizi wagneriani il circolo a cui lui si iscrive a monaco è quello dei cavalieri dell'ordine del santo graal non compivano nessun rito esoterico i giovani adepti di questo circolo ma pensate cosa facevano una cosa assolutamente innocente studiavano e quindi studiano quindi mentre a scuola in conservatorio il giovane Humperdinck ha una formazione anti-wagneriana nel cavalierato del santo graal studia le partiture di Wagner naturalmente quando Wagner tiene il primo concerto come direttore delle proprie partiture a Monaco il ragazzo va lì quasi in ginocchio quasi in lacrime ma di questo incontro il compositore così non prende traccia obiettivo del ragazzo è rincontrare il maestro Humperdinck è molto diligente ottimi risultati in conservatorio ottiene varie borse di studio tra le quali una molto importante una borsa di studio intitolata a Mendelssohn che gli permette un viaggio in Italia il viaggio in Italia era una tradizione per diciamo nel mondo della cultura di allora in questo viaggio in Italia Humperdinck ha una meta al di là della gita nelle città d'arte arrivare a Napoli dove siamo nel 1880 dove soggiorna già da qualche tempo Wagner il suo idolo dove Wagner e qui apriamo una piccola parentesi ma interessante perché diciamo che tutto il mondo di Humperdinck ruota intorno a questa grande straordinaria affascinazione giovanile verso Wagner Wagner che come sempre era astutissimo nei suoi viaggi a farsi ospitare nei luoghi più belli senza mai pagare a Palermo ci sono dei racconti leggendari di lui cacciato dall'albergo dei conti salatissimi e qui a Napoli è a Posillipo a Villa Angri Villa Angri è una villa di delizia meravigliosa c'è ancora adesso è sede dell'università davanti al mare una cosa assolutamente stupefacente le cronache di allora raccontarono che Wagner arrivò a Napoli non in carrozza o così o con mezzi modesti come erano soliti i viaggi di allora ma addirittura con un treno di tre carrozze che portava le insegne reali di Ludwig di Baviera cioè Ludwig di Baviera fornisce a Wagner il proprio treno personale tre carrozze e su questo treno possono salire comodamente il compositore Cosima i tre figli loro i due figli di lei con Von Bulow poi naturalmente c'è il precettore dei ragazzi c'è un pianista al seguito c'è un cantante ci sono due camerieri e il cuoco il treno è affollatissimo voi immaginatevi quanto fosse stato pittoresco questo arrivo alla stazione di Napoli e naturalmente il periodo napoletano del 1880 siamo in là nella carriera e nella biografia wagneriana il soggiorno a Napoli si arricchisce della famosa gita Ravello della quale gode tuttora il festival di Ravello che può promuovere un festival estivo nominando sempre appunto questo famoso passaggio di Wagner che immaginò nei meravigliosi giardini di Ravello le fantasie di Clingson e tutto il resto andò varie volte al conservatorio frequentò il San Carlo frequentò il teatro Bellini ma le cronache del tempo ci raccontano questo interessante che Wagner soprattutto si intrufolasse di nascosto ai processi che allora come oggi erano molto frequenti ed erano molto pittoreschi e molto partecipati c'era proprio una folla così gridante urlante in questi processi napoletani e Wagner che pure non conosceva nessuna parola dell'italiano si intrufolava e amava passare le giornate pensate che risvolte incredibili uno non l'immaginerebbe pensando così a Parsifal il cartone di Parsifal sono i processi magari per anche situazioni minute a Napoli Humperdinck si presenta umilissimamente al compositore il compositore lo prende subito in grande simpatia lo ospita con sé e anzi lo mette subito al lavoro perché appunto Wagner stava scrivendo il Parsifal e aveva tutto sommato bisogno di un giovane di talento di istintiva musicalità e soprattutto con questa non solo adesione emotiva verso di lui ma questa capacità straordinaria appunto di cultura armonica aperta e quindi lo mette a lavorare ci sono alcuni Humperdinck racconterà poi tutto questo nelle sue memorie e lui sostiene addirittura alcuni passi del Parsifal sono stati addirittura scritti da lui stesso perlomeno insomma qui magari andrebbe tutto verificato però c'è un aneddoto molto interessante appunto nella tarda biografia di Humperdinck che racconta di una sera una sera tiepida napoletana a Posillipo quando il compositore chiamò alcuni cantanti chiamò il suo pianista e mise tutti in cerchio compresa la famiglia e si mise a dirigere e a cantare un po' anche un po' estemporaneamente le parti di Parsifal che lì aveva composto il tutto nel tripudio generale quindi c'è questo lato italiano anche nella scrittura di Wagner che forse andrebbe un po' riscoperto insomma queste radici soprattutto ultime finali che ci gemellano un po' a sorpresa con il grande compositore ultimo piccolo aneddoto dedicato a Wagner a Napoli e dopo passiamo decisamente ritorniamo al nostro Humperdinck tanto era entusiasta del clima napoletano Wagner che si portò quando ritornò poi a casa col treno sempre di Ludwig si portò un maestro di fuochi d'artificio napoletano che organizzava la sera delle feste talmente colorate che piacevano talmente tanto a Wagner che Wagner lo presa in simpatia e se lo portò con sé tutto questo è raccontato da Humperdinck naturalmente non è una mia invenzione l'aspetto interessante è che dal punto di vista del contatto tra Wagner e Humperdinck è che un giorno solenne il giorno del compleanno di Wagner 22 maggio 1880 Wagner propone a Humperdinck di diventare suo assistente a Bayreuth adesso io non vi ho detto la data di nascita di Humperdinck che era appunto 1854 quindi 1854 1880 ha fatto i conti rapidamente il ragazzo a 26 anni allora a 26 anni diventare assistente di Wagner per l'allestimento dell'opera nata per il teatro di Bayreuth di un compositore che di lì in avanti loro non lo sapevano però era chiaro che non avrebbe più scritto nulla beh insomma era una sorta di incoronazione mondiale Humperdinck va segue le prove segue la prima rappresentazione prepara i vari cori prepara questo allestimento complicatissimo e dopodiché Wagner come era un po' una sua caratteristica finito l'uso del giovane ragazzo lo liquida e lo lascia e allora Humperdinck decide di cominciare a viaggiare Humperdinck dove va un compositore un giovane compositore allora in Italia non poteva venire in Germania tedesco lo era dove poteva andare va a Parigi era l'altra grande meta possibile per un compositore di aperte vedute e intanto che a Parigi si sollazza nei crimi parigini ecco di nuovo una chiamata da Wagner siamo nel gennaio 1883 Wagner è a Venezia gennaio 1883 voi vedete che ormai qui gli anni sfilano e ci stiamo avvicinando alla fine Wagner a Venezia chiama reclama il giovane Humperdinck il quale ovviamente ubbidisce e torna torna dal grande maestro lì incontrerà Liss ci incontra questo grande momento appunto finale della biografia wagneriana dirige per il compositore la sinfonia in do perché per il compleanno di Cosima Wagner voleva farle questo omaggio di questa sua sinfonia giovanile rieseguita e il giovane Humperdinck a dirigerla e in cambio di tutta questa devozione che cosa promette Wagner Wagner promette a Humperdinck di diventare maestro al conservatorio di Venezia che allora non si chiamava come oggi conservatorio si chiamava ancora liceo Marcello per cui pensate se il tutto fosse andato in porto al liceo Marcello di Venezia gli allievi avrebbero potuto studiare gli allievi di composizione di fine ottocento avrebbero potuto studiare con un allievo di Wagner con Humperdinck peccato che la storia ci mette in mezzo i bastoni per cui con la crisi di Trieste con tutti i problemi che legano Italia e Germania che poi sarebbero confluiti nel primo conflitto mondiale tutto questo non va in porto un tedesco insegnare a Venezia voi potete immaginare che in quel clima non era assolutamente accettato per cui che fa il nostro poveretto non avendo ottenuto il posto al liceo Marcello se ne torna a Parigi ed è a Parigi che lo coglie la tragica notizia della morte di Wagner febbraio 1883 13 febbraio la notizia è terribile per il giovane Humperdinck ci sono delle lettere che lui scrive al padre alla sorella assolutamente straziate disperate Humperdinck dice lui è morto era all'apice della grandezza ma io non ho ancora non avevo ancora imparato abbastanza da lui segue un momento di totale disorientamento la grande fascinazione verso Wagner crea con la perdita con la scomparsa del compositore del maestro crea un momento di totale spaesamento e su questi aspetti biografici possono sembrare laterali però quando noi ascoltiamo Hansel e Gretel nel secondo atto e vediamo i due bambini persi nel bosco spaesati con questo suono che improvvisamente l'orchestra ci contagia dicendoci quanto sia brutto essersene andati da casa dal primo atto dove eravamo nella haem nella quiete della tranquillità domestica e ci si ritrova sperduti senza trovare più una strada nel bosco ecco io credo che qui qualche accenno autobiografico qualche accento autobiografico si possa trovare perché è il totale proprio è un totale è un momento di totale disorientamento quello che vive il giovane Humperdin che per cui come si fa quando si è disorientati o ci si butta dalla finestra o si incomincia a viaggiare lui per fortuna viaggia giustamente comincia a viaggiare va in Spagna va in Marocco ritorna in Francia non combina assolutamente niente tra le varie attività che fa anche pensate che bello quella del critico musicale e sarà anche un critico musicale di un certo livello di una certa caratura torna a bussare alla porta di Bayreuth dove regna ormai Frau Cosima e Frau Cosima racconta Humperdin appunto Humperdin nel suo diario si rende invisibile cioè non affida più nessun compito al giovane compositore nessun compito di rilievo diciamo nell'ambito del festival che ormai è diventato così importante forse ancora più importante dopo la morte di Wagner l'unico compito che gli affida ed è un compito se volete un po' di ripiego per le aspettative di un giovane musicista è quello di fare il precettore al giovane Siegfried Humperdin sarà il precettore del figlio di Wagner del figlio maschio di Wagner quindi gli insegna composizione gli insegna a scrivere tutto sommato è un bel gesto ai nostri occhi dal punto di vista così professionale di un compositore allora è un po' un gesto riduttivo passano gli anni siamo a 1887 Humperdinck sembra non riaversi di questa crisi della perdita del maestro non riesce a scrivere lui che a 14 anni aveva già scritto un'opera e due singhspiel non produce nulla nel suo diario annota non sto facendo nulla per l'immortalità e certo non è per l'immortalità insegna composizione a conservatorio di Köln appunto è critico musicale per la per la FATS per la Frankfurter Allgemeine e fa alcune revisioni ad esempio è abbastanza citata la revisione del clavicembalo ben temperato di Bach adattato a due pianoforti nulla di rilevante intraprende una piccola attività assolutamente marginale che però ai nostri occhi è importante scrive l'accompagnamento pianistico per alcune canzoncine che stava scrivendo la sorella Adelaide loro eravano quattro fratelli Adelaide era la terza e la seconda genita Ernestina era morta aveva creato questa sorta di lutto familiare che aveva pesato un po' appunto in questa serenità domestica della famiglia Humperling e aveva rafforzato l'uscita di scena diciamo la morte di Ernestina aveva rafforzato il rapporto tra Engelbert e Adelaide cioè tra il primo e il terzo si era creato questa sorta di solidarietà nel dolore e per cui Adelaide è sposata Vette è sposata appunto a questo anche lui poeta scrittore di una certa caratura scrivono canzoncine per i due bambini i due bambini di casa Vette anche qui di nuovo si ricostruisce questa idea della haema della casa che protegge per cui si educano i bambini si scrivono delle canzoncine che raccontano la fiaba di Biancaneve che raccontano altre fiabe tutto in clima assolutamente domestico facciamo un secondo ascolto numero due eccetera eccetera un accompagnamento schubertiano non è una cosa duetto così molto semplice molto grazioso molto heimlich molto domestico anche se naturalmente qui ci sono due grandissime cantante una è la Schwarzkopf che fa Grittel e Sena Jorinag fa Hansel perché poi la scrittura come sempre non è da operina non è in formato minore è sempre importante ma è il contenuto è il soggetto che è semplice e questo qui Humpernink grazie ai suggerimenti della sorella dell'Aide per una sua tensione per una sua diciamo per una sua ricerca di percorso nuovo una volta rimasto solo dopo la morte di Wagner deve trovare diciamo un suo luogo un suo spazio una sua misura una sua identità e la ritrova assolutamente originale nel solco della grande tradizione della cultura romantica tedesca agli inizi del secolo quando appunto si era andato affermando il movimento romantico tedesco che cercava una identità per una nazione non una identità per un compositore un'identità per una nazione che era una nazione tedesca si era visto da più parti nella fiaba un tessuto importante che avrebbe potuto legare insieme il mondo della cultura alta e la grande diciamo misura della cultura popolare quindi la fiaba era per la nazione tedesca un oggetto non solo di studio non solo di diletto per i bambini ma era un oggetto colto le raccolte di fiabe che portano avanti i più grandi letterati tedeschi dall'inizio degli anni venti in avanti queste raccolte di fiabe che vengono pubblicate illustrate meravigliosamente sono il nuovo manifesto della cultura tedesca cioè il romanticismo tedesco avrà tra i suoi ingredienti fondamentali il mondo della fiaba che non è un oggetto per bambini non è una cosa semplice è una cosa che ci appartiene cioè che appartiene al mondo tedesco e che crea l'identità della Germania il romanticismo tedesco appunto affonda le sue radici nel mondo della fiaba questo nutre la letteratura va a nutrire la musica Humperdinck forse istintivamente forse grazie appunto ai consigli della sorella Adelaide ritorna in questo momento di grande smarrimento ritorna alle radici domestiche rassicuranti della fiaba la fiaba non è solo un oggetto tenero semplice felice la fiaba nel mondo tedesco romantico è un oggetto oscuro le fiabe hanno tutte a che fare con la magia con la morte con delle situazioni di inquietudine sono molto spesso ambientate nella natura ma è una natura cattiva selvaggia dove ci si perde quindi non sono delle favolette sono dei luoghi importanti con cui diciamo lo spirito l'interiorità le anime si vanno a confrontare tenete presente che le fiabe saranno poi nei primi anni del novecento studiate acutamente analizzate da Sigmund Freud come specchio profondo dell'inconscio tutto questo il romanticismo l'aveva già in parte dispiegato ma quando e naturalmente il nostro Humpertink non andava già a pensare alle analisi freudiane o ai sottesi psicoanalitici però in effetti insomma quando noi raccontiamo Hansel e Gretel a dei bambini qualche piccolo turbamento comunque ci viene ma perché chi sono questi genitori che lasciano due bambini soli nel bosco e chi è questa strega che riappare quando la mamma non c'è più non sarà la mamma mascherata e poi cosa succede questi bambini che vengono mangiati che vengono trasformati in biscotti ma è una storia terrificante cioè solo i bambini che hanno una mentalità aperta la possono accettare comunque in casa Adelaide Vette le due fanciulline di casa che sono riprodotte naturalmente in tutte le fotografie le troverete anche qui nel bellissimo programma di Sala che è stato preparato per questa edizione di Hansel e Gretel le due bambine giocano innocenti e anzi si dilettano a cantare i primi momenti di Hansel e Gretel perché appunto dopo aver messo in musica le canzoni per Biancaneve il passo successivo è la fiaba di Hansel e Gretel e così in queste festicciole domestiche il nostro Humperdinck reduce dai fasti della Feschpilhaus di Bayreuth coni addirittura questo motto adesso ve lo leggo attenzione spero di leggervelo bene sono 34 lettere una di seguito alle altre è una delle parole in tedesco più lunghe che io abbia mai pronunciato Kinderstuben Bühnenweil Feschpilhaus cioè Kinderstuben la stanza dei bambini Bühnenweil la grande la solenne scena del Feschpilhaus del Feschpilhaus quindi dalla Bayreuth dal festival di Bayreuth il clima viene trasferito in casa Vette anzi nella stanza dei bambini di casa Vette si fa grazie a Humperting un piccolo festival un piccolo Feschpilhaus voi sapete che la parola festival oggi assolutamente abusata nasce per l'appunto a Bayreuth e in questo clima così tranquillo così Bittermeier così accogliente questa esecuzione di leader perché erano canzoni per voce e pianoforte ispirati alla favola di Hansel e Gretel riesce talmente bene i motivi sono motivi così di canzoni popolari tedesche mischiati però ad armonie di sapore wagneriano quindi colto alto quindi c'è questo intreccio tra il mondo dei bambini che in fondo è il mondo della fiaba è il mondo alto della cultura dell'eredità wagneriana e il tutto ha così grande successo che Adelaide propone a Humperting di scrivere un zingspiel esattamente come aveva scritto quando aveva 14 anni un zingspiel ispirato a Hansel e Gretel dal zingspiel il tutto diventerà poi in breve tempo cioè brevissimo non tanto perché passano altri tre anni il tutto diventerà un'opera si interessa dell'allestimento il teatro di corte di Weimar dove appunto dirige Richard Strauss e lì a Weimar il 23 dicembre del 1893 avverrà la prima esecuzione di Hansel und Gretel perché è importante questa data? perché sono passati esattamente dieci anni dalla morte di Wagner ha avuto bisogno di dieci anni Humperting per elaborare il lutto per elaborare il distacco dal grande compositore Richard Strauss era direttore il giovane direttore Strauss che non aveva ancora affrontato allora il mondo dell'opera era allora direttore voi sapete che la prima cultura straussiana è quella appunto di grande direttore e adora subito si entusiasma per questa partitura scrive una lettera di encomio assolutamente piena di elogi verso voi siete un grande voi siete il migliore insomma cose un po' infatiche che si dicono e che sembra che non restino in realtà tale è il successo di queste recite a ridosso di Natale ecco perché si dà sempre a Natale Hansel e Greta nei paesi d'aria tedesca è rimasta la tradizione di dare a ridosso di Natale Hansel e Greta proprio perché la prima avvenne intorno a Natale ma se noi andiamo a vedere la storia in realtà viene a Natale perché non erano arrivate le parti da Monaco l'opera era stata programmata per il teatro di Monaco poi non va in porto viene spostata a Weimar e passa del tempo e si arriva a Natale quindi non è che Humperdinck pensasse a Hansel e Greta come opera natalizia perché in effetti natalizia non è però da lì tale è successo che nei paesi di area tedesca si crea questa tradizione che dura fino ad oggi di eseguire Hansel e Greta per Natale ed è bellissimo perché poi è Natale la festa dei bambini e si offre la possibilità ai bambini di ascoltare un'opera importante e alta quindi non la si dà a Natale ma va benissimo lo stesso portateci i bambini perché comunque per i bambini è bellissimo che succede che ha appunto questa grandissima fame per cui viene richiesta in tantissime altre città in area tedesca appunto Monaco Burgo Berlino Dessau nel teatro di Dessau pensate chi ne chiede di curarne la regia quella perfida di Cosima che prima quando il giovane Humperdinck bussava la sua porta per dirigere qualcosa a Bayreuth si negava e invece qui quando vede che il giovane ha scritto un'opera di successo ecco che si propone lei come regista antessignana poi delle terribili valchirie che imperano ancora oggi a Bayreuth e quindi ne cura l'allestimento l'allestimento è a firma appunto di Cosima Wagner e dirige Gustav Mahler a Dessau nel pubblico nella recita di Vienna perché appunto poi naturalmente il successo si estende anche all'impero nella recita di Vienna la prima di Vienna di Hansel und Gretel è presente anche Brahms che naturalmente approva assai contento il successo è tale che in dieci mesi il nostro poveretto questo dà speranza ai giovani oggi in cerca di lavoro che fino allora si era così un po' arrabattato senza ottenere grandi introiti in dieci mesi accumula la somma consistente di due milioni di marchi d'oro davvero una cosa per cui effettivamente lui poi vive vive di un successo un po' come Mascagni con Cavalleria cioè quando il primo titolo ha un successo così importante poi è chiaro che tutto quello che viene dopo anche se le opere seguenti di Humperting sono tutt'altro che trascurabili di Königskinder che era stato dato qualche anno fa al San Carlo di Napoli un'opera assolutamente bellissima anzi chissà che non arrivi anche qui tra l'altro era un bellissimo allestimento quello che si era visto a Napoli 130 teatri tedeschi allestiscono in breve tempo Hansel e Gretel e la fame è tale che ovviamente arriva oltre oceano nel 1906 si ha la prima esecuzione al Metropolitan pensate dal piccolo teatrino di Weimar siamo volati al Metropolitan e raccontano le leggende perché naturalmente sulle fiabe fioriscono ancora più le leggende che l'ultimo biglietto staccato per la prima tesissima di Hansel e Gretel al Metropolitan fosse comprato da Mark Twain e quindi che bello pensare che anche lui fosse là con il suo biglietto ad applaudire e naturalmente quando un'opera è famosa poi appunto in crino un po' è successo delle altre per cui negli anni seguenti il ricco e pasciuto Humperdinck che ormai viaggiava richiestissimo per il mondo scrive appunto altri due titoli di cui quello importante è Königskinder e scrive soprattutto questo è interessante dal punto di vista così dell'arricchimento del suo profilo perché sicuramente Humperdinck è stata una figura importante sotto il profilo della cultura tedesca scrive musiche di scena per gli allestimenti di Max Reinhardt voi sapete che Max Reinhardt fu tra i fondatori del festival di Salisburgo e Max Reinhardt a Berlino propugnava in quegli anni siamo intorno al 1905 propugnava un nuovo modo di fare teatro e vuole per questi suoi allestimenti teatrali di prosa naturalmente le musiche di scena firmate da Humperdinck quindi c'è questo tassello interessante per concludere la sua biografia dopo così non vi tedio più con le date i dati però è importante perché come dice ma dove è andato poi a finire Humperdinck va bene Hansel e Greth ma dopo lui che ha fatto muore muore naturalmente come capita ha un primo ictus a Londra dopo di che ne ha un secondo ritornato a Berlino rimane paralizzato quindi i suoi ultimi anni non sono nemmeno degli anni gloriosi tra l'altro sono anni poco gloriosi anche per la Germania ci stiamo avvicinando alla guerra è un periodo di spaventosa inflazione naturalmente come capita con le persone che hanno un enorme improvviso successo Humperdinck è circondato dall'infidia e dalle malelingue di tanti compositori intorno a lui e quindi non vive gli ultimi suoi anni felice morirà in una piccola cittadina dove si era recato per vedere un'opera del figlio nel 1921 e chi porta avanti la sua eredità sono i suoi allievi lui aveva una classe comunque importante quindi capeggiata da un lato dal Sigrid Wagner e che si conclude pensate uno degli ultimi suoi allievi nessuno lo direbbe oggi fu Kurt Weill e quindi questa è la storia del nostro Humperdinck però a questo punto bisogna vedere qual è la storia di Hansel e Greta perché tutti la conosciamo tutti la diamo per scontata invece vi vorrei sottoporre qualche piccolo qualche piccolo diciamo accenno critico in modo che poi il vostro ascolto spero sia più interessante magari con qualche spunto di curiosità in più allora dove si svolgono i tre atti l'opera la piccola opera si svolge in tre atti e i tre atti non sono distribuiti a caso perché appunto il primo atto vi ho detto è daheim cioè è in casa nell'intimità delle pareti domestiche il secondo è Imwald nel bosco e il terzo bellissimo naturalmente quello che tutti i bambini anche tutti noi aspettiamo è nella casa della strega quindi si intitola al titolo di Das Knusper Heuschen la casetta della Knusper della strega rosicchiona quindi vedete tre elementi Heim la casa Wald il bosco Knusper Heuschen la magia della strega casa bosco magia i tre ingredienti tipici del romanticismo tedesco appena tratteggiati però pennellati proprio come un manuale se volessimo fare un piccolo corso di letteratura romantica tedesca forse tutto sommato basterebbe leggere il libretto e ascoltare ovviamente anche la musica dei Hansel e Gretel perché i luoghi tipici del romanticismo tedesco ci sono tutti nella nella casa i due bambini lasciati soli come non si dovrebbe fare in una buona famiglia borghese tedesca come si fa oggi ma come allora assolutamente era considerato poco decoroso i due bambini lavorano altra cosa poco decorosa per una famiglia borghese perché il papà Peter fa come lavoro lo scopinaio come dice nella traduzione Macchi cioè fabbrica scope non fabbrica un oggetto a caso perché le scope sono quelle dove volano le streghe sono l'automobile delle streghe quindi insomma vedete come in questa haim borghese ci siano però già degli elementi che si collegano al mondo magico della strega e la mamma la mamma si arrabatta ritorna a casa stanca distrutta è molto interessante molto anche un po' un po' comico diciamo non molto comico un po' comico vedere come Humperdinck presenta l'ingresso in scena dei due genitori perché dopo che i due bambini hanno cantato e ballato il maschietto non ha fabbricato scope la bambina non ha rammendato i calzini rotti anzi hanno anche assaggiato un pochino del latte che era lì nel bricco pronto per la povera umile cena arriva la mamma arriva la mamma la mamma stanchissima vede i due bambini indiavolati perché dopo il duettino che abbiamo ascoltato i bambini insceneranno una danza scatenata molto divertente molto ruspante molto schubertiana molto tutto quello che sarà poi la letteratura tedesca perché in fondo delle danze di Humperdinck andiamo poi direttamente a Mahler e la mamma arriva e sfatta dalla stanchezza non sa altro che sgridare i bambini nel momento in cui sgrida i bambini i suoi movimenti sono così stanchi e così goffi che ahimè rovescia la brocca del latte quindi l'unico piccolo cibo che avevano per la cena se ne va a terra e quindi che fa la mamma caccia i bambini nel bosco dice andate nel bosco a prendere a raccogliere un po' di fragole frutti mirtilli in modo da aver qualcosa da mangiare i due bambini escono di scena ecco altro elemento importante i bambini che vanno da soli nel bosco solo nelle fiabe naturalmente e entra in scena il padre che invece al contrario della madre entra proprio così tutto piaccione tutto festoso i baritoni che cantano il ruolo del padre sono sempre molto contenti perché finalmente hanno un ruolo baritonale così un po' grassoccio assomiglia un po' al barone oxa del rosa in cavaliera anche dei bellissimi waltzer tra l'altro e quando entra tralalala tralalala in maniera un po' rustica un po' volgarotta sciorina di fronte alla madre un sacco pieno di cibo ecco Hansel e Greta è l'opera ideale per Expo perché non fa altro che parlare di cibo dall'inizio alla fine questo dovete segnarlo ecco perché è stata messa adesso e non a Natale perché si parla solo di cibo i bambini hanno fame la mamma rovescia il latte li manda nel bosco per raccogliere le fragole perché devono mangiare e poi la strega cosa fa? la strega cuoce i bambini e li mangia e poi alla fine i bambini cosa faranno? mangeranno loro la strega quindi è tutto un cibarsi e tutto un mangiarsi in quest'opera e il padre Sciorina tutto questo sacco meraviglioso pieno di delizie e la madre rimane sconcertata tra l'altro appunto al di là della tinta un po' sempliciotta del padre è straordinaria l'orchestrazione in questo momento dell'elenco dei cibi che il padre ha portato a casa perché dietro le cipolle le patate c'è un'orchestra che meravigliosamente dipinge il gesto concreto quasi il profumo del cibo di una grande capacità pittorica aveva in fondo Humperdinck il padre naturalmente disperato dice a un certo punto si accorge che non ci sono i bambini dove sono i bambini li ho mandati nel bosco ma nel bosco ma dove? nel bosco dove c'è la strega a disperazione quella è la strega che prende i bambini e li mangia a fine del primo atto a fine del primo atto che si conclude con l'uscita disperata dei due genitori secondo atto i bambini sono nel bosco belli tranquilli Hansel che è sempre così diligente e premuroso ha riempito il suo cestino di fragole Gretel che invece è la più così sbarazzina un po' già sognatrice si è fatta una meravigliosa coroncina di fiori ed è lì che si fa vedere al fratello guarda come sono carina guarda qui ma è nozza di figaro diventa tardi i bambini hanno fame e cominciano a mangiarsi le fragole tra l'altro accompagnati da meravigliosi suoni del bosco tra cui c'è il famoso intervento del cucù che punteggia così in maniera esoterica il loro il loro modesto la loro modesta cena e viene buio viene buio nel bosco che è nominato con una grande perizia botanica da Adelaide Vette gli alberi sembrano diventare degli orchi minacciosi dei grandi fantasmi i bambini hanno paura non sanno più come ritornare e vedono apparire in loro aiuto il famoso appunto nano sammiolino che in realtà è Sandman l'uomo che sparge la sabbia e aiuta i bambini ad addormentarsi qui l'apparizione di Sandman è assolutamente deliziosa accompagnata da un tessuto orchestrale magico degno dei migliori movimenti ferici di Mendelssohn davvero la magia della scrittura che accompagna Sandman è uno dei passi più belli i bambini sono pronti per addormentarsi ma cosa fanno i bravi bambini borghesi nel clima Biedermeier tedesco nelle Heim confortevoli tedesche prima di andare a dormire dicono la preghiera e quindi ecco i nostri che stendono la copertina per terra e si mettono in ginocchio come c'è in tutte le meravigliose illustrazioni di Hansel e Gretel e dicono la loro preghiera ecco quando ai tempi mi ero trovata a dover tradurre questa preghiera che è uno dei momenti forse il momento più alto musicalmente parlando di tutta l'opera beh insomma le parole in italiano non sono assolutamente venute non le abbiamo trovate non le abbiamo trovate non perché fosse impossibile tradurre che scendevano 14 angeli divisi a coppie e che due angeli stavano in testa due angeli stavano in coda e due angeli ci indicavano la via del cielo ma proprio perché in questo momento la lingua tedesca aveva una tale poesia una tale delicatezza che l'italiano l'avrebbe assolutamente disturbata lo ascoltiamo molto bella la traduzione che è stata fatta qui sul programma di sala ho approfittato per gettare un occhio perché davvero l'italiano è semiserbo a Dio fedela non è possibile sembra una canzone così di canti di chiesa ma di un po' processionale non di grande non di grande levatura nemmeno quella invece qui si traduce quando chino la mia testa addormentata 14 angeli guardano il mio letto due la testolina due i piedi due a destra due a sinistra due che mi coprono due che mi vegliano due che mi guidano alle porte del paradiso devo dire che è la traduzione più vicina al testo tedesco che comunque sentito in tedesco è davvero uno dei momenti magici e dopo questo meraviglioso appunto momento spirituale molto in clima parsi fare in clima così grande notturno tedesco ovviamente non si poteva calare il palcoscenico e c'è una meravigliosa pantomima degli angeli per cui questi angioletti che sono scesi sui due bambini che intrecciano carole e danze per favorire il loro sonno fine del secondo atto e siamo al terzo nel terzo appunto svegliati dalle gocce di rugiada e qui di nuovo il nano sabbiolino si è trasformato in nano rugiadoso così diceva il nostro macchi quindi il nano che diciamo il principe della rugiada getta spruzza un pochino d'acqua sui bambini li fa svegliare i bambini si svegliano e sentono un delizioso profumo profumo di biscotti sarebbe bello mettere anche il profumo in sala dovrebbe essere un'opera quasi di sinestetica con la sinestesia del profumo dei biscotti che invade la sala certo la musica ce la fa abbastanza sentire e siamo appunto con l'apparizione della strega che ha costruito la sua casa per irretire i bambini mette il piccolo Hansel in gabbia per farlo ingrassare perché evidentemente il piccolo costruttore di scope è magrolino mentre invece Gretel è già abbastanza cicciottella quindi è abbastanza pronta la strega dopo aver fatto vari riti magici pronunciando frasi misteriosi che non ricordo tutti i bambini sanno ocus pocus e con una bacchetta di sambuco perché la strega è una strega tetesca ed è molto precisa non ha preso un legno a caso ha preso legno di sambuco che voi sapete il sambuco è la pianta delle streghe e quindi dopo aver formulato appunto i riti magici ocus pocus chiede a Gretel di controllare se il fuoco nel gigantesco forno sia abbastanza caldo Gretel non è così ingenua da farsi catturare e chiede invece alla strega di provare lei a tastare la temperatura del fuoco naturalmente i due bambini da dietro spingono la strega che cade bruciata nel forno noi tutti siamo felici però se voi pensate in realtà non è un gesto bellissimo da insegnare ai bambini di buttare se la mamma accende il forno la nonna accende il forno non è proprio didattica diciamo questa fiaba comunque la strega brucia e poi c'è un momento assolutamente finale bellissimo assolutamente liberatorio l'uscita finale è una pura invenzione di Adelaide Vette e di Engel Humbertink perché è il canto di liberazione di tutti i bambini si scopre che la strega aveva costruito questa casetta di biscotti bruciando ciclicamente i bambini trasformandoli in biscotti e costruendo con questi biscotti la casa per cui con appunto con la strega arrostita se ne va a fuoco anche tutta la casa e con le formule magiche che Gretel e Ensel soprattutto con grande attenzione avevano memorizzato riescono i bambini a ritrasformare gli altri bambini da biscotti in bambini e poi a scena del tripudio finale arrivano i genitori grandi danze grandi feste e tutto si chiude in grande gioia che cosa ci insegna Hansel e Gretel cioè che cosa ci rimane al di là dell'ascolto bellissimo del meraviglioso viaggio in una epoca felice della Germania prima degli anni tristi che poi seguiranno beh ci rimangono alcuni punti allora intanto ahimè è l'etichetta di Humperdinck come compositore di Hansel e Gretel a lui potrà dispiacere ancora però noi non possiamo non pensare a Humperdinck come l'autore di Hansel e Gretel possiamo documentarci andare a sentire dell'altro andare a scoprire che è stato un protagonista importante della vita tedesca che è stato vicino a Max Reinhardt piuttosto che vicino a Wagner però Humperdinck rimane l'autore di Hansel e Gretel poi seconda cosa da lui nasce però la tradizione di scrivere opere per bambini grandi compositori del novecento si cimenteranno in questo territorio citiamo su tutti Briten e Hindemith opere di segno diverso ma opere scritte per i bambini se ne scrivono ancora oggi interessante oggi quando si vede un allestimento di Hansel e Gretel e qui il vostro è particolarmente accattivante perché porta la firma di Lele Luzzati interessante vedere come l'allestimento risolve il problema centrale di quest'opera perché questa è un'opera per bambini che parla di bambini ma Hansel e Gretel sono un soprano o un mezzo soprano cioè sono due signore a volte anche un po' prosperose e pettorute che invece devono fare la parte del piccolo Hansel e di Gretel quindi la regia la messa in scena deve giustificare deve inventare deve ricreare questa situazione infantile pur affidata a delle grandi voci e quando la regia ci riesce l'effetto proprio di d'incantamento è assolutamente perfetto cioè la vocalità di Humperdinck pur modellata sullo stampo wagneriano riesce in un risultato che a Wagner non sarebbe probabilmente mai riuscito cioè di far cantare sul modello wagneriano e far immaginare a noi che quella vocalità sia una vocalità di bambini e questo è il suo grande merito questa è la sua grande invenzione questa che resta unica nella storia quella che rende oggi interessanti le regie quando vado a vedere una regia di Hansel e Gretel e ce ne sono tante potete divertirvi su youtube ce ne sono di tutti i tipi potete vedervi come le varie regie sono riuscite in questo in questa sfida che è la sfida più alta cioè di far di trasformare con un tocco di magia due cantanti donne in due piccoli bambini e poi c'è l'ultimo dato che è davvero un po' sconcertante cioè io ogni volta che ci penso veramente rimango abbacinata cioè noi pensiamo alla storia della storia dell'opera della storia della musica come un luogo riservato noi siamo qui adesso potrebbe fuori crollare il mondo noi siamo qui che dilettiamo parlando di Hansel e Gretel io mi diverso a raccontarlo a voi voi così carinamente mi ascoltate quindi in qualche modo noi ci stiamo ritagliati uno spazio fuori dalla storia quando venivo qui dalla stazione il tassista mi ha detto cosa va a fare fa una conferenza ma una conferenza ma di cosa parla di opera lui è stato zittissimo come dire cioè si parla di cose importanti non si parla di opera in fondo quando noi diciamo siamo appassionati d'opera sembrava un po' dei marziani ebbene invece l'opera sempre sempre ha parlato come nessun'altra dei fatti della storia e allora quando noi vediamo nel terzo atto questo grande forno della strega guardate mi vengono davvero i brividi e siamo in anni dove poi i forni delle streghe ce ne saranno tanti e tanti bambini bruceranno e allora noi diciamo ma come mai è stata proprio scelta quest'opera come mai proprio a Weimar come mai proprio in questa roccaforte esemplare della cultura tedesca che sarebbe stata poi negata per così tanti anni e quindi risulta Hansel e Gretel in fondo anche un'opera che ha anticipato la storia fuori l'ha raccontata in maniera molto cruda e poi ha saputo presentare una via d'uscita e questa forse è così se vogliamo che le fiabe abbiano anche un insegnamento e anche l'insegnamento che ci rimane oggi da Hansel e Gretel grazie grazie Caramoreni grazie per questa così genealogia e analisi anche del retroterra di Humperdinck che appunto rimane un nome legato all'opera invece abbiamo avuto l'occasione di indagare le origini di questo personaggio e come si è arrivato a quest'opera e ovviamente grazie per averci guidato poi nell'ascolto e nella fruizione dell'opera in teatro con tantissimi spunti ne riprendo un paio a proposito di compositori che hanno scritto per i bambini se vogliamo abbiamo una liaison con la prossima stagione quando sarà proposto il pollicino di Hansel che anche quello è una sorta di caridoscopio dei linguaggi musicali del novecento e è vero sì il legame con Expo sarebbe molto carino vero è che a luglio noi abbiamo un quartetto golosissimo di opere ritagliate diciamo un po' a fine stagione con tantissime recite una dopo l'altra di Bohem Traviata Norma e Barbieri di Sevilla che insomma è il piatto che offriamo al pubblico che verrà all'Expo da dopo domani grazie ancora Carla Moreni buon divertimento con l'opera da mercoledì prossimo noi ci rivediamo il 27 maggio per parlare di Fost di Guno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti